Mi sa che non finiscono più E se non finiscono più Ma avete proprio rotti i coglioni Perché ho sprecato un po' di proiettile adesso No Aspetta Forse io le ho finite Ma ne ho sperate tipo Si finiscono finiscono Mappa della Dependence Ah posso creare munizioni Vabbè io allora sono nella Dependence A questo punto sono entrato Ah io che crea munizioni Alcina Chiave di Alcina Sì ma Mappa Boh qua diventata azzurra Basta ripi la mappa Attenzione il rossetto della signora è sparito Chiunque lo trovasse è pregato di riportarlo nel suo bagno È stato fabbricato appositamente per lei Ed è molto costoso Rossetto a gusto di cazzo La governante Ma qualcuno ve l'ha mandato un po' di curriculum Ve l'ha mandata sta cosa Allora qua ancora c'è da prendere qualcosa Sto mini corridoio Ah perché c'è La bala a spaccare Non entra in questa serratura Ok adesso è diventata azzurra Allora a destra e a sinistra Aspetta Tanto una porta è chiusa Ah una è chiusa Sì andiamo con la Niente qua sento dei rumori di Cristo Quindi c'è gente in casa Un giorno dal trattamento Le tre ragazze non si muovono più Sembrano quasi morte Dalla bocca della grande E fu riuscito un insetto Sembra una normale mosca Due giorni dal trattamento Tutti e tre corpi sono coperti dalle mosche Sembra che queste siano Consumando la loro carne Quando ho aperto la finestra Alcune mosche sono cadute a terra morte Appare che il freddo le pietrifichi Ho chiuso immediatamente la finestra Per evitare di indebolire Un ulteriore diventi di insetti Quattro giorni dal trattamento Tutti e tre i corpi sono stati consumati Degli insetti quasi completamente Ciò che resta è solo Una scura massa strisciante Dalla forma umana Tutti e tre i corpi sono stati consumati E appena passato mezzogiorno Gli insetti hanno iniziato a cambiare colore Quelli sul viso sono impalliditi E quelli intorno alle labbra Sono diventati rosso cremisi Sei giorni dal trattamento Una massa di insetti Si è trasfermata nuovamente in corpi umani Le tre ragazze si sono svegliate Guardandomi come se fossero appena nate Sento un legame tra di noi Come fossimo madre e figlie Ho scelto i loro nomi Bela, Daniele e Cassandra Trattamento Trattamento Esatto Quindi praticamente le figlie Sono proprio fatte di mosche Non sono vampiri Sono fatte interamente di mosche Non è che si scompongono No, sono fatte di mosche Trattamento di qualche tipo di nuovo virus Allora io sto andando a sinistra Eh che palle Ah aspetta è arrivata una Sì io spero di provare Sono Allora 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 Esatto È iniziato all'alto corridoio Spero Io oramai dove vedo delle Però c'è da dire per me Edic che Indipendentemente che il titolo È quello che è Quindi Non tanto spaventoso Tanto eccio Per me c'è il fatto che anche tu Ti sei ormai abituato ai Non lo so Ribadisco che L'atmosfera E Non lo so Come ti ho già detto Il discorso della difficoltà Il discorso della surrealità Secondo me L'altro è un'altra Allora Prima di essere rosso Guardiamo se c'è un cazzo di cristallo Per mangiare tutti gli amici Ha trovato il cristallo Ho trovato il cristallo Nel senso Secondo me Sarebbe anche un gioco piacevole Non fosse che uno Ha delle aspettative Da Resident Evil Esatto Esatto E quello Quello ci dà ragione Se io fossi partito Con poche aspettative Di così Alla fine Quello che mi aspettavo Eh sì Se io mi aspetto Resident Evil 8 Eh No Non ho voglia di suonare il piano Ma io in realtà qua È tutto rosso Non so che cazzo Non mi manca Ancora Noi si andiamo giù Io che non so Ho preso tutto Ah aspetta C'è un cassetto Ah perché c'è una struttura facile da scassinare Non ho il clima Valdello Dai che cazzo cerca a fare Già fatto Boh Vado giù Sotto Ancora Sotto ancora Tutto rosso Però guarda Cioè Non c'ho manco più Voglio di guardare Nelle stanze Però attenzione Il piano per me Potrebbe essere Da suonare Perché Suoniamo sto piano Di stamini Eh no Ma io non le so Le note raga Neanch'io Sono un batterista Orcocino Allora Ah però se suoni Dove il pallino è quello giusto Ah bom Automaticamente Mozart Sì c'è tu quando Cioè quando vai quello giusto Basta scegliere una cosa di Vabbè Allora ci ha dato la chiave Per aprire tutte le porte Con l'altro stem Aspetta arrivo C'è alcun diario da leggere Con le mosche Ho già letto L'ho letto Quello che ho letto prima Ah ok O ce n'è un altro Scusa Non ho capito Che dice Ce n'è uno sotto Vicino al pianoforte C'è un Ah si Aspetta Sì Ah guarda qua Nome scientifico Nessuno Misura 5-6 cm Struttura del corpo Simile a quella Del moscone Con delle differenze Nella testa Sono carnivori Che consumano carne Voracemente Per tratturare la preda Si raccolgono Usando i feromoni Per replicare La figura Di un essere umano Nate dalle uova Deposte del cadù Nell'organismo Che lo ospita Le mosche Non sono in grado Di riprodursi Sono sensibili Ai cali improvvisi Di temperatura Se la temperatura Scende sotto I 10 gradi centigradi Il loro metabolismo Rallenta Fino ad arrivare A uno stato Dormiente E criptobiotico E' un fenomeno Simile Alla criptobiosi Dei Polipendum Van der Pal Chi Che fa Ah guarda Ok Quindi abbiamo scoperto Cosa sono le figlie E va bene Ok Cioè in realtà Hanno infettate questa mosca Perché Boh Andate così Eh no Lo spiegheranno Io spero Cioè Spero Allora niente Andiamo nel A questo punto Andiamo nel cortile Tu vi racconto tutto? Sì Nella sala dell'opera Sì Nel cortile no Nel cortile Continua a avercelo rosso E non so che dire Adesso io Raccolgo Perché mi sa che è qua Quindi ora dobbiamo Aspetta Abbiamo altre Eh Ai piani di sotto O al piano di sopra Aspetta Sto cercando di capire Ma io sento Sono ancora qualche giro Perché mi sono perso qualcosa No Però aspetta Sala dell'opera Ok Al piano di sopra No scusami Torna indietro Torna nella sala dell'opera Al piano di sopra Ok Al piano di sopra Perché c'è una cosa dosta Perché abbiamo Abbiamo delle cose Da scassinare Aspetta C'è una su Abbiamo un problema Non indifferente Torna un attimo di sopra Niente Io me ne sto tornando Dal mercante Un attimo Ma dove è il mercante? Eh La sala Devi andare nel latrio principale Ah ma tu sei già uscito quindi Dopo che diventato Ho dovuto Ho dovuto per forza Perché a me è comparsa la bastarda E ti devo dire Ah vado L'ho principata anch'io Adesso Mercante ok C'è anche se sei salvataggio Io direi Ancora salvata Sfera con fiori e spade Vabbè ma cosa Vabbè niente Qua sto giocando Un minigioco pazzesco No ok Attenzione Ce l'avevo quasi fatta E adesso che l'ho fatto Rotolare che passione Pazzesco Teschio cremisi E che mi fa il teschio cremisi Non capisco La vendi Bella merda Ce l'ho fatta Una minchiata Eh sì Ti dà un botto di soldi Vabbè Allora Aper il negozio Sì sì Allora Veniamo un po' di roba Ma non mi rompere il cazzo Madonna di soldi Abbiamo raccolto un sacco di roba Ti puoi dicere Che non ce lo stiamo neanche giocando male 29.000 No boh Il calice Da vino rosso Di Alcina Dimitrescu Boh Ma praticamente Tutta roba da vendere Questa no Con lana di Ingrid Ah anche di valore Protegge il male E vendi va E vedi va E vedi va E vedi va E vedi va Vabbè Potenzio tutto Ho comprato Mi sono Ho aumentato l'inventario Secondo me manco serve Oh adesso Lui l'ho comprato Non si sa mai Tante cazzo Le freghe Comunque La prossima volta che c'ho 10.000 Da buttare Tanto mi sono potenziato Tutte le armi Sì sì Oppure Poi le Boh Mi salviamo Ho salvato Adesso sciamo Dove dobbiamo andare Adesso Perché abbiamo trovato Una chiave Ma nelle porte Ancora è chiusa Allora no Dobbiamo tornare Se non sbuca di nuovo Quella ladra Bisogna tornare Nella stanza dell'opera Perché lì c'era Una porta da aprire Con la nuova chiave Che abbiamo Allora Dobbiamo tornare indietro Eh se non sbuca Eh se non sbuca di nuovo Quella lì Ma teniamo indietro Comunque Confermo Che fa come Mr. X Sì 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 Oh cazzo Boh Grimandello Eh ma sgamato Quella Bastarda Io no Io so Corso Tanto dell'opera Ma sgamato Allora Da qua dove minchia Devo andare No No Nei fogli Non può uscire No 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 Può uscire Come Ok Chiave con stemma Di ferro Via Già secondo piano Dai che arriva Allora Ma che fa Ah sì Vieni qua Dai che arriva Ok l'ho aperto anch'io Perché sei una Donne Cattiva Ecco perché Ah vai a fare un culo Sì Ma ti dirò Sì ma questa Non c'è finestra Ce n'è ce n'è C'è un lucernaio Che fa enorme Ma io ho sparato Ma No Beppe c'è la leva Dove cazzo Ah qua Adesso Adesso Favuto il fucile Appombando Di quei colpi No E invece Mi ero Sto Piace La chiuda La chiuda Quindi Sì che faccia Busto cristallizzato Nel senso di Cristo Cristallizzato Va bene Bella boss fight Di merda No ma sono tutte così Ha detto falconero Ma Che fa raga Però no Morta Sì Una stranzata E anche Busto scristallizzato Busto da Sizio Ok allora Se le più Ah i boss Sono di una Dei montagli Stabeschiare Allora Quello è tutto rosso Vediamo che cosa Mi sono perso Odirreste è tutto rosso C'erano delle armi Da prendere Odirreste è tutto rosso Gli abbiamo fatto fuori Due Su tre Sì Due su tre Colpi di pistola Che non ho usato Tutto rosso Tutto Scusa No che cazzo Non capisco cosa hai raccolto Perché Allora C'è un vaso Un vaso Poi c'è un cassetto Da aprire in un mobile Eh l'ho fatto L'ho fatto E poi In una libreria C'è ancora dei colpi Di pistola E io Mica ho fatto tutte Io ho fatto tutte Tre Perché è ancora Tutto rosso E allora c'è qualcosa Che mi scordo Che non ti ho detto Non me lo scordo L'ho preso in automatico Ok Munizioni fucile Ah bravo Ok Eh Buon Apriamo la porta Che porta Una parte Nessuna Allora Esatto Perché l'abbiamo Già aperto Che era quella Sala della gioia No? Stiamo andando Esatto Adesso sbuca L'altra Vedrai Se non vi dico La bastarda gigante Qua c'è qualcosa Di lato Vicino alla finestra No Attenzione Qua c'è da raccogliere Un'altra roba Maschera della gioia Aspetta Aspetta Però non raccoglio ancora Sì perché effettivamente Potrebbe succedere di tutto Esatto Qua abbiamo sbloccato Un altro principale Una shortcut Mentre qua All'atelier Si può andare Sì Andiamo un attimo Nell'atelier Ascolta me Ok Ripenderà la maschera Della gioia Tra un salvataggio Ah no Poi magari Mi sbaglierò Però No aspetta Ci conviene Prendere la maschera Della gioia Perché l'atelier Ci dà Il punto esclamativo Esatto Quindi allora Torniamo indietro Vediamo la maschera Di sta minchia Eh Solo volevo Sollevitare Che arrivasse l'altra Maschera della gioia Presa ma non succede niente Boh Perfetto Atelier Allora Mi sto guardando in giro Qua c'è un dipinto Della Dimitresca Io ancora non ho cliccato Ci manca quello Di Ghostbusters Dio fa Allora aspetta Quello di Ghostbusters 2 Lì Dai Fa sì che le cinque campane Risuonino Di che cazzo Sta parlando Eh su Ci sono Andiamo al secondo piano Che minchi di campane Hai visto Che dici No dietro c'è un meccanismo Lo vedi E va bene E poi E poi qua c'è una campana Vicino Al piano Al piano di terra Dove a sparare Secondo L'ho beccata con il S'accesa Con il fuoco Boh Alla ci sono Una campana qua Una è sopra È sopra l'armadio La vedi Due Eh Eh dove cazzo è l'altra adesso Ci sono cinque qua Guardiamo dietro i meccanismi Ah quella che uscilla Forse c'è una campana attaccata Esatto Scusa Dietro nel muro c'è Una roba che uscilla E c'è una campana attaccata In una Che va avanti e indietro Ma che porco Presa Aspetta Una due tre E dove l'altro Ma che fa Allora E siamo a tre Ah uno è fuori dalla finestra Guarda vai Il secondo piano C'è Un Una Una finestra E dietro Ma raga ma che enigma di merda E quattro E l'ultimo Dove cazzo è Ce ne manca una Eh in mezzo al lampadario Lo sapevo Ah lì sopra Dici Ah la Bastarda E poi che succede Arriva di nuovo la Puzzone Si apre il quadro Cinco Andiamo di qua Raga di un enigma Di una Difficoltà Si apre il quadro Allora Va bene Tanto di qua Quella lì non ci passa Poi cazzo Esatto Scala Dove finiamo C'è una roba qua adesso Ricordiamoci che Noi dobbiamo ancora mettere Tutte le pezzi di statua Nella stanza principale Sì Lo so lo so Ma tanto Ha una pianta verde Accogliamola Che è sempre importante Allora Posso curarla Ah capra di merda Pianta verde L'hai trovata Era dietro Poi dietro No 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 Sotto Prima della scala Era ancora rosso Aspetta Che io scendo giù Allora dietro C'è una stronza Che dorme Con la spada in mano Aspetta Aspetta Ma io già la vedo Che sta dormendo Quindi si si spara in testa Vado a fa'culo Mappare il tesoro Mappare il tesoro Mappare il tesoro Ho trovato la mappa del tesoro Perché ho La mappa del tesoro qua Pare che da qualche parte Nel castello ci sia Un certo pugnale Dei fiori della morte Si tratta di un cimedio Risaliente Al medioevo Rivestito Di una mistura Di veleni Prevenienti Da tutto il continente Fu fabbricato Per uccidere I demoni e i mostri Sembra un oggetto affascinante Ma nessuno sa dove si trovi Lo usiamo per uccidere La dimitresca Esatto Per me si Però dietro C'è una che dorme Non so se l'hai vista Eh boh Andiamo a romperle Cazzo Io gli spari in testa C'è Morta Ok Un rimandello Teniamolo Un rimandello Un rimandello E' un rimandello Un rimandello sembra il caso l'inventario pieno io no io sono prendendo l'altra cosa sono sono a posto vorrei capire com'è possibile un inventario pieno io c'è un bel po di posto perché ho preso quello nuovo però vabbè avrei fucile a pompa e la pistola delle granate 4 me di kit di più o 4 me di kit o va a combinare le munizioni e non le fa combinare come c'è non li fa combinare vabbè è andata così è no andata così il cazzo non perché non può fare se cosa però c'è ancora da tende a qualcosa fa una sarda perché vale ancora rosso ok no l'inventario è sempre pieno ma quanto cazzo di spazio prende sto porco te lo dico subito prende due quattro sei otto dieci dodici dodici quadrati e mi spiega come faccio dovresti tornare indietro a comprarti ce l'hai 10.000 lei vendendo anche il busto ma come torno indietro così tanto indietro raga questo è un problema niente mi devo tornare giù praticamente e ritornare giù altro principale tanto c'era una short cut mi pare dove avevamo preso la il viso prima prima della stanza con le con le con le campane sono ammazzato di sotto adesso arriva quella io già lo so da qua devo andare si esatto a principale vai lì compri devo andare a sinistra porco di sentita brutta cattiva no no cassandra non c'è cassandra il porco ma in culo te cassandra vendi sto busto della minchia comunque nella mappa del tesoro c'è una mappa che abbiamo trovato dietro c'è una scritta eh che scritta c'è te lo dico subito mappa del tesoro la giri e c'è scritto nella barra di quel nobile uomo c'è un c meglio di grande valore ma non è facile accedervi ci vuole la giusta illuminazione qualcosa da fare con gli specchi vabbè comunque ma devo ammazzare i gargoy qua ma sei già tornato su se ma voglio dove che aspettavo ma prima che c'erano dei decorbati migliorate basso sto tetto qua un colpo da volano veloci due colpi per ammazzo coltello quando la legge alla chistallizzata vabbè c'è in giro che cazzo dove stai? mi avete fatto il peccato esploriamo il tetto di sta minchia vabbè a fare in più vabbè senti vado avanti che lo posso andare? mi hanno ammazzato da due però ah l'ascensore qua c'è vabbè abbiamo finito di rompere i coglioni qua c'è l'ascensore ma non ci sto andando ancora non ci sto andando tanto poi sono ammazzato tutti gli uccellini doveva spaventarmi questo no incassati nel muro non so dove che cazzo stiamo facendo su qua nel tetto ma eh che mira di merda sta parte è fatta chiaramente è fatta spiecare munizioni sta parte è fatta chiaramente comunque metrò 2033 praticamente è diventata questa roba specchi un botto di munizioni ma qua c'è una carrucola ragazzo so per il tetto adesso se cado è un bordello ah qua c'è non c'è niente 120 lei comunque le munizioni stanno andando non so dovevo conto ma io qua su questo tetto è un po' confusionare c'è comunque un ascensore che non ho cliccato che porta maschera della furia ho trovato prendendo la carrucola qua si può scendere scendiamo boh ma poti io maschera ecco maschera della furia terza maschera un 4 ma non mi ricordo un cazzo mi pare che avevano guad allora quindi sto tetto però in realtà non abbiamo finito di esplorarlo cioè però il problema è il problema sai cosa è che non puoi sentire indietro della carrucola perché si è rotta esatto quindi mi sa che è andata così perché non so se ci possiamo andare è un altro discorso ma adesso vediamo adesso scendiamo giù tanto di me cosa è possibile qua ma mi sa che ci siamo arrivati beh mansarda che comunque ma da rossa ancora sta mansarda di stilini no io lo credo io ce l'avevo azzurra allora aspetta ma perchè c'erano delle gemme no 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 gemme no eh ok ora era azzurra va bene ma l'unica cosa che possiamo fare è esplorarci ancora il tetto ah qua c'è un vaso niente ancora peggio che dopo che giriamo il tetto l'unica cosa che potremmo fare è ehm andare all'ascensore perchè tanto è l'unica cosa che possiamo fare adesso giriamo ancora per sto tetto quando è blu ci ritroviamo dell'ascensore è vero è vero è vero che c'è un mostro lui sai che però qua c'è un problema perchè io sono tornato dalla carrucola e non ho trovato una minchiazza nanch'io la carrucola ci è rimasta in mano usa ah no è solo che cosa ah la puoi usare nel senso la puoi usare cioè nel senso chi la monta e la usi esatto campanile e torre della furia sono blu ehm sono quasi tentato di battermi nel cazzo e prendere sto ascensore pure io perchè magari poi alla fine è solo un cristallo di merda che costa luce di merda tanto per me la roba principale era di prendere la era prendere la scala della scala della furia esatto infatti sto prendendo basta ho chiamato l'ascensore boh io sto boh io pure sto scendendo la scalapioli il filipidio claro boh scensore giù anche lì prima la sua scensore non andava se quello che ti porta dove ti dico io c'è chi ha attivato la corrente nei vecchi resident dovevi farlo tu per far usare l'ascensore però vabbè è andata così ah niente praticamente stiamo tornando dal dall'ala dal lato dal duca boh ah altro principio stanza del mercante si si torniamo alla stanza del mercante porco eh la sua merda qua è tutto azzurro ma quanto sei alta aia canaglia ma secondo te io ho paura che puoi è lenta è lenta ci arriva la tesola di salvataggio tu ti salvo si sono appena tornato dal duro e' welcome welcome vedi tesori vendi stiali cristallizzate ah ah возrazi ho acquisito il valigione di cartone bravo bravo io non lo posso più prendere perché tanto ti dici e poi posso potenziarmi il fucile f2 ma ora non è il caso sì esatto penso che 1 salviamo e salviamo ed è stato un piacere